Alle 18 farà il suo ingresso in diocese il nuovo pastore di Brindisi Ostuni, Monsignor Giovanni Intini. Teledeon seguirà in diretta la concelebrazione, mentre questa mattina il nuovo Vescovo ha incontrato i giornalisti. E a Brindisi per noi la nostra Alba Di Palo. A te la linea Alba. Sì Damiana, si è tenuta qui la conferenza stampa che Monsignor Intini, il nuovo Vescovo di Brindisi, ha tenuto questa mattina volendo incontrare nuovamente i giornalisti, un po' per confrontarsi su quello che sarà il suo nuovo cammino qui, su quelli che saranno i capisaldi di questo cammino comunitario. C'è carenza di ascolto, ha detto Monsignor Intini, e molte volte questa carenza di ascolto provoca mancanze di risposte. Allora per iniziare la sua nuova esperienza pastorale ha deciso di incontrare i detenuti che sono nel carcere di Brindisi. A loro ha dato ascolto e loro mi hanno aperto il cuore, ha detto il Vescovo, che ha pranzato con chi usufruisce dei pasti offerti dalla mensa Caritas. Quindi ha incontrato chi vive in una situazione di disagio economico e sociale. Ha spiegato perché ha cominciato da qui e allora ascoltiamo insieme le sue parole. Ho voluto dare la priorità all'incontro con i nostri fratelli ristretti, proprio perché lì si vive una sofferenza spesso anonima all'esterno. All'esterno ci sono molti pregiudizi nei confronti dei nostri fratelli carcerati, perciò ho voluto dare la priorità a loro. Posso dire adesso di non aver sbagliato, perché veramente hanno aperto il loro cuore, si sono sentiti accolti. Non ho fatto nessuna predica, però la presenza e un dialogo fraterno ha voluto essere un momento di ristoro spirituale anche per loro. Le nostre mense Caritas diventano veramente dei luoghi dove poter toccare con mano la povertà che aumenta. E allora da questa esperienza devono nascere anche delle scelte pastorali che dobbiamo fare per fare la nostra parte e venire incontro alle necessità soprattutto dei poveri. E Monsignor Rintini arriva dalla diocesi di Tricarico, che proprio ieri è stata, utilizziamo un verbo che non è corretto però, accorpata a quella di Matera Ersina. Infatti Monsignor Cagliazzo sarà il suo nuovo amministratore apostolico. Sono certo che ci sarà la possibilità di fare un nuovo cammino, le idee e le forze ci sono, ha detto Monsignor Rintini, che su questo ascoltiamo insieme. Era un percorso, diciamo, di cui la diocesi di Tricarico era a conoscenza. Voi conoscete bene questa nuova modalità che Papa Francesco sta adottando, di affidare a un solo vescovo due diocesi perché possano camminare insieme. La diocesi di Tricarico ha un'estensione abbastanza importante, però lo spopolamento demografico è diventato sempre più problematico. Certo, è necessario non far sentire abbandonate queste popolazioni, questi territori. Io sono convinto che questa formula che adesso si sperimenterà, perché Monsignor Cagliazzo è amministratore di Tricarico, penso che potrà dare la possibilità di rimodulare, di riformulare nuove modalità per camminare insieme. Chiaro che è tutto un cammino da inventare, è una novità, però io sono convinto che la diocesi di Tricarico abbia le energie giuste nei sacerdoti, nei laici. Bisogna riprendere energia per poter andare avanti e sono convinto che le carte da giocare ci sono. Naturalmente ha detto, ha anche annunciato, che fondamentale sarà coinvolgere i giovani che non devono essere considerati gli adulti del domani, ma bisogna valorizzarli nel loro presente dando loro la possibilità di essere protagonisti e soprattutto consentendo loro di vivere un protagonismo sano all'insegna della creatività. La cosa che ha ribadito più volte è fare in squadra, costruire una famiglia e infatti l'appello alla comunità brindisina che rivolge è questo. L'ascoltiamo insieme e poi Damiana, ti restituisco la linea. Chiedo a tutti collaborazione, chiedo a tutti di poter offrire la loro collaborazione perché sono convinto che nessuno può sentirsi esente, nessuno può sentirsi tanto povero spiritualmente, culturalmente, da non poter dare niente. Per cui se riusciamo a creare uno spirito comunitario proprio ecclesiale, direi, penso che questo sarà vantaggio sicuramente del territorio su cui noi viviamo.